Mandello festeggia i 60 anni in acqua di Leo Callone. A 73 anni, dopo 105.000 chilometri a nuoto, l'atleta più longevo al mondo raccoglie l'affetto dei suoi concittadini. Il Caimano dell'Ario, chiamato così perché anni fa sfidò i fortissimi colleghi egiziani chiamati Coccodrilli del Nilo, ha definito la sua più grande impresa l'attraversata a Mena a Giorgenio dopo aver sconfitto un cancro. La straordinaria carriera è cominciata il 3 agosto del 1958 in una traversata del lago a Mandello quando aveva solamente 12 anni. Callone ha un palmares mostruoso in cui spiccano tra gli altri 19 titoli italiani in piscina e 18 in acque libere, una ponza a cerceo, 4 capri Napoli e la traversata della Manica nel 1978 dove per anni ha detenuto il record italiano. Una vita piena di sfide entusiasmanti raccolte in Leo Callone, Bracciate per la vita, un libro che poi è diventato anche un film. L'obiettivo dichiarato dal Caimano è di arrivare a 120.000 km in acqua.